Lanciato da Cape Canaveral il 1 luglio 2023, due mesi dopo, a settembre, il telescopio spaziale Euclid dell'ESA aveva da poco iniziato a inviare verso Terra le sue primissime immagini. Immagini ancora imperfette, ancora fuori fuoco, ma già in grado di svelare a occhi allenati tesori mai visti prima. Occhi come quelli dell'astronomo dell'ESA Bruno Altieri, capace di cogliere al volo fra i milioni di stelle e galassie presenti in quelle primissime immagini un'anomalia familiare, una forma fioca ma caratteristica, un anello quasi perfetto, un cosiddetto anello di Einstein. Intuizione poi confermata dalle successive analisi, culminate in un articolo pubblicato oggi su Astronomy and Astrophysics, firmato fra gli altri da Giulia Despali, ricercatrice all'Università di Bologna, alla quale abbiamo chiesto perché questa scoperta è così importante e qual è il valore scientifico di quest'anello. Allora, questa che noi vediamo qui è l'immagine molto bella di una galassia osservata dal telescopio spaziale Euclid, che ha la particolarità di essere una lente gravitazionale. Quindi questa luce diffusa che si vede nell'immagine è una galassia ellittica, molto vicina a noi, che agisce da lente gravitazionale, ovvero la sua massa riesce in qualche modo a deflettere la luce proveniente da un oggetto che gli sta dietro. Quindi in questo caso questa deflessione si osserva in questo piccolo cerchietto, che è visibile proprio al centro della galassia ed è ingrandito in questo piccolo pannello, e vediamo che è un anello quasi perfetto. ha quattro punti più luminosi e questi sono quattro immagini diverse della stessa galassia che sta molto più distante da noi. Quindi mentre la galassia che agisce da lente si trova a circa mezzo miliardo di anni a luce da noi, la galassia che viene deflessa si trova molto più distante, quindi si trova a quattro miliardi di anni di luce da noi, quindi quasi più di un terzo dell'età dell'universo. Allora, questa è la prima lente gravitazionale osservata da Euclid, il primo anello di Einstein completo, e ci aspettiamo che Euclid ci permetterà di osservarne molte di più, e in effetti ne stiamo già vedendo molte nuove nei dati che stiamo analizzando. In particolare questa lente, essendo molto vicina, avendo questo anello di Einstein completo, ci permette di usare la distribuzione di luce per caratterizzare varie cose. Quindi ci si potrebbe aspettare che la cosa più interessante di una lente gravitazionale sia studiare la luce dell'oggetto che viene deflesso, e questo è sicuramente importante, ma in questo caso, per il telescopio spaziale Euclid, quello che è la cosa più importante è studiare la distribuzione della materia nella lente stessa, quindi in questa regione molto al centro di questa galassia ellittica. E questo perché è importante? Perché questi oggetti sono molto brillanti e noi vediamo la loro componente stellare, ma la lente gravitazionale permette di misurare la massa non solo visibile, quindi quella di stelle, di gas che noi possiamo osservare, ma anche della famosa componente di materia oscura. Che cos'è? Che è questa componente di materia che, secondo le teorie più recenti, dovrebbe essere i quattro quinti della materia totale dell'universo, però noi non la possiamo vedere perché non emette nessuna luce, allo stesso tempo però produce un effetto di gravità e quindi contribuisce alla dimensione di questo anello di Einstein. E quindi grazie a questi oggetti possiamo misurare entrambe e questo è uno degli obiettivi del telescopio Erklift.